Non riesco a trovare figure giovani e specializzate da inserire nella mia azienda. Prepariamoli insieme. Con la formula di Academy Duale IFOA possiamo formare profili tecnici specializzati junior in qualsiasi ambito e in qualsiasi momento. Con questo programma potremo cercare e formare i profili più richiesti sul mercato con un percorso duale personalizzato e finanziato. I giovani selezionati saranno assunti con un contratto di apprendistato di primo livello fin dal primo percorso formativo, alla fine del quale conseguiranno un titolo di studio IFTS a Valenza Europea. Grazie ai fondi a disposizione abbiamo già formato 214 figure specializzate assunte con il contratto di apprendistato di primo livello. Da 50 anni, IFOA sostiene la formazione per l'inserimento lavorativo. IFOA. Sapere utile.